Sì, guarda la telecamera come balla, ma nello schermo è completamente fermo, perché c'è lo stabilizzatore, come forse qualcosa si muove lo stesso, però molto meno, se non ci fosse vedrete tutto. Mi porti la giacca di pelle? Quanto hai fatto il corso? Che pietro ti hai fatto? Aspetta, sono qua a lavoro. È la da è la stagione, è la da stagione. È la scruzione. Da istBug City ma l'T colleagues. Sacro molto deliciosa, ma assieme ditschaftia. Co e che cosa Richard, segresti la sua strada un significance? Poi chiede in Vacanella. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti.